Davvero imbarazzante, a cominciare dal sessore Quaresimale che ha approvato in giunta questo progetto di riforma sanitaria e poi in aula con l'assenso di tutti i consiglieri di centrodestra di questa provincia, Cipolletti, Dannuntis, Di Matteo, Rompicapo, La Cardinale, davvero sono stati imbarazzanti perché hanno approvato il declassamento, l'umiliazione dei quattro ospedali della provincia di Teramo. A cominciare dall'ospedale Capoluogo dove è prevista una terapia intensiva neonatale con soli due posti letto, sostanzialmente è un'assistenza neonatale, poi il declassamento di oculistica di Atri, il declassamento di due unità operative complesse a Sant'Omero, quindi su quattro primari ne resteranno solamente due e poi la vicenda dei posti letto su 713 posti letto in più a livello regionale, meno del 10% a Teramo, solo 69. Davvero la sanità terramana è stata umiliata dopo cinque anni di attesa poiché Marsilio e Verì governano questa regione da cinque anni e soprattutto dopo aver superato il commissariamento e il piano di rientro della sanità. Un finale davvero triste per la sanità terramano con l'assenso, penso sostanzialmente inconsapevole, dei consiglieri di centrodestra di questa provincia. Noi chiederemo di modificare questo progetto di legge che da alcuni giorni è legge regionale, lo faremo a cominciare dalla prossima legislatura con un cambio di rotto sulla sanità con il nostro governatore Luciano D'Amico. Una bravo idea di secondo livello, è stato molto chiaro il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio visto che non abbiamo consiglieri regionali di Teramo perché sono stati tutti in silenzio, purtroppo ahimè, non hanno difeso il territorio la frase che hanno imparato e che ripetono è quella di dire che non si occupano di sanità. Io ho già detto in consiglio regionale, trovo assurdo che un consigliere regionale dica che non si occupa di sanità non comprendo bene quale debba essere il ruolo di un consigliere regionale visto che la sanità è la voce di bilancio più importante che c'è in regione. Il presidente Marsilio ha voluto spostare l'attenzione creando un po' di cacciara e ha commesso a mio avviso degli errori lanciando delle accuse pesantissime. Parla di nuovo di faccendieri senza fare nomi e cognomi, lo invito a fare nomi e cognomi se ha dei dati, ha delle notizie di reato da dover riferire. Mi auguro che l'abbia fatto durante gli innumerevoli interrogatori come abbiamo letto a mezzo stampa che sono stati fatti in questi anni per le triste vicende anche molto pesanti sotto il profilo del carico umano, sappiamo bene che sono stati anche episodi purtroppo estremi negli ultimi anni durante le indagini e se sa qualcosa lo deve riferire in maniera puntuale. Spifferare che sono stati nominati i direttori generali in cambio di avere direttori che poi producono consenso politico sul territorio e dire che le procure a breve diranno e dettaglieranno queste questioni vuol dire fare rivelazioni segreti d'ufficio a meno che lui non sta collaborando con le procure e sa qualcosa che ha l'obbligo di dire in consiglio visto che la legislatura ormai è volta al termine. Lei andrà in procura? Io ho già detto, visto che ci sono notizie di reato importanti rese durante il consiglio regionale dell'altro giorno ho già detto alla presidenza del consiglio nella figura della segretaria di trasmettere gli atti in procura quindi nei prossimi giorni verrà fatto questo perché all'ennesima esternazione accusatoria che fa il presidente della regione non ci sto, pensi alla sanità, pensi alla gente che oggi non riesce a fare una visita, a prenotare un intervento chirurgico nel frattempo muore di attesa. Il destino di Teramo è segnato se il 10 marzo naturalmente dovesse essere riconfermata questa giunta regionale.